Ciao, bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Romina e il messaggio per Albano Un pensiero, dolcissimo, a chi ha avuto accanto per quasi trent'anni Quali le sue parole? Da oltre vent'anni non sono più sentimentalmente legati Così recita la loro storia personale. Eppure, per tanti, sono sempre una coppia inscindibile. Anzi, la coppia E se non vi fosse il reale pericolo di offendere Adriano Celentano e Claudia Mori, in tanti continuerebbero a definirla come la coppia più bella del mondo Romina Power e Albano Carrisi hanno alle loro spalle una storia che, complessivamente, è durata oltre trent'anni Un matrimonio celebrato nel 1970, la nascita di quattro splendidi figli. La fine definitiva del loro rapporto datata 1999 Nel mezzo tanta felicità, come il titolo di un loro famosissimo brano, ma anche il più devastante dei dolori, la perdita della loro primogenita Ilenia che, in quel periodo, ha fatto tremare il loro stesso rapporto Ma anche quando le loro strade si sono divise per sempre. Con Albano Carrisi che ha dato vita a una nuova famiglia insieme a Loredana Lecciso I loro rapporti non si sono mai interrotti Hanno proseguito una carriera artistica vissuta l'uno accanto all'altra attraverso le serate in giro per il mondo E nei giorni che precedono un grande evento per Albano Carrisi, Romina Power ritorna a farsi sentire E come? Romina e il messaggio per Albano. Il 20 maggio si avvicina sempre di più Una giornata qualunque per tanti, ma non per Albano Carrisi. Un giorno speciale da sempre. Ma il 20 maggio 2023 lo sarà ancora di più Quel giorno Albano Carrisi festeggerà i suoi 80 anni nella splendida dimora di Cellino San Marco Ma due giorni prima, il 18 maggio 2023, si celebrerà l'evento al quale il grande cantante pugliese sta lavorando ormai da mesi La meravigliosa scenografia dell'Arena di Verona farà da sfondo allo show dal titolo Albano 4x20 Sono attesi grandi ospiti. Primi fra tutti i colleghi amici avversari di un'intera carriera. Ovvero Gianni Morandi e Massimo Ranieri con i quali Albano si è già esibito all'ultimo festival di Sanremo In prima fila, però, il grande artista pugliese, vuole schierata tutta la sua famiglia allargata Le sue due donne e madri dei suoi sei figli, Romina Power e Loredana Lecciso Proprio Romina Power, ha già inviato al suo ex marito un messaggio carico di affetto Una bella foto in bianco e nero, pubblicata sul suo profilo Instagram, ritrae Romina Power e Albano durante un concerto Giovani, belli e innamorati più che mai La didascalia che accompagna l'immagine recita Non manca molto al concerto a Verona per festeggiare Albano A quanto pare, in questo frangente, Romina Power ha anticipato Loredana Lecciso Ma è facile attendersi un'immediata risposta da parte dell'attuale compagna del cantante pugliese Perché anche la sera del 18 maggio 2023 all'Arena di Verona, nella serata dedicata ad Albano La perenne tra Romina Power e Loredana Lecciso vivrà di un altro imperdibile capitolo Grazie per aver guardato l'intero video La notizia è qui per finire Mettete mi piace e commentate In particolare cliccate iscriviti al canale Per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video